... Michael Schumacher, Gianluca Pessotto, Borca Valego, Peter Phil, Andrea Bodi e poi Sara Morganti, Alexei Nemov, Chietil, Andrea Amtod e Luca Cantagalli. Sono solo alcuni dei premiati della ventesima edizione del premio internazionale Fair Play Menarini che è stato presentato nel Salone d'Onore del Cognacoma alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Italiano. Abbiamo un bel parterre legato al mondo, agli stranieri, fra i quali il Teglalo Rupe che è un esempio, è un'ambasciatrice oltretutto ONU e UNICEF per quanto riguarda la pace attraverso la sua fondazione. Ricordo il grande Chietil Henry Omod, otto medaglie olimpiche, Alexei Nemov il russo con dodici medaglie olimpiche, nonché Alessandra Sensini, Gianluca Pessotto, di cui ho un bellissimo ricordo anche personale, Peter Phil, Luca Cantagalli. Poi una notizia secondo me da tenere in considerazione è il fatto che ci sarà un brasiliano, ma non è un brasiliano comunque. Perché Bernard Reisman, oltre che io conoscerlo effettivamente a livello personale, perché forse tanti tanti anni fa ci ha giocato anche contro, però ha lasciato il comitato olimpico brasiliano di cui è direttore tecnico, nonché vice capo delegazione delle Olimpiadi che ci saranno dopo 20 giorni. Quindi questo è il senso di quello che hanno veramente capito per ricevere questo premio e noi siamo onorati e lieti di averlo fatto capire. Credo che bisogna proprio raggrupparci, proprio circondare la parola, il tema, il valore del fair play, il mondo dello sport, soprattutto per quello che si sente, si vede, si legge di non bello nel mondo dello sport. Questi valori sono i nostri, sono felice che molto prima che diventassi presidente del comitato olimpico sono sempre stato vicino a questa iniziativa, a questo progetto fatto di idee, di uomini, di valori, più che mai oggi. Credo che è molto apprezzato, il mio senso di riconoscenza mi sento assolutamente dentro a questa partita. Qui insomma è una scommessa reciproca che il premio mi ha voluto riconoscere molto prima che io arrivasse qui, ma io da subito ho capito cosa c'era dietro di bello, di importante. Sono contento che c'è stata questa intuizione felice sulla quale secondo me c'è una potenzialità di percorso di vita da fare con lo sport molto importante.